L'argomento dei costi non giustifica in alcun modo un'eventuale chiusura dei punti nascita di periferia. I Freihaltiken sudtirolesi proseguono macchine a tutta forza nella loro battaglia per scongiurare la cancellazione dei reparti di ostetricia dei piccoli ospedali delle vallate Altoatesine. Lo ha detto a chiara lettera Tamara Oberhofer dei Liberal Nazionali Altoatesini che ha convocato una conferenza stampa per parlare tra il resto anche dei numeri delle nascite forniti dalla provincia. Abbiamo visto che la gente è legata molto emozionalmente a questi reparti per i loro servizi proprio buoni e dunque per noi solamente l'argomento dei costi non è un argomento accettabile. La Oberhofer ha sottolineato il fatto che ad una stessa interrogazione sul numero dei parti avvenuti nel 2013, presentata in tempi diversi, sono stati forniti dati diversi. Sul numero minimo di parti per poter garantire la sopravvivenza dei punti nascita, l'esponente di Freihaltiken ha ricordato che è compito della politica poter garantire la sicurezza. Naturalmente la sicurezza è sempre una cosa molto importante, però anche la politica deve cercare di garantire questa sicurezza spendendo anche i soldi. Per esempio la gente capisce che è importante spendere i soldi nella sanità, però la gente qualche volta non capisce perché spendiamo tanti soldi nell'aeroporto. Inoltre secondo Tamara Oberhofer c'è un'ulteriore ragione per mantenere i reparti nascita in periferia. Chiudere questi reparti secondo me è una cosa che non capisco perché i reparti nascita nelle periferie aiutano anche agli ospedali più grandi perché significa anche meno lavoro per gli ospedali più grandi. Infine sulla riforma sanitaria in generale i Freihaltiken ritengono prematuro esprimersi in merito. Fino ad oggi si hanno solo informazioni frammentarie dicono non abbiamo in mano un dettagliato piano organico e riesce quindi difficile fare analisi e stagliare giudizi.